Il bottino è stato di circa 30.000 euro a segno i soliti ignoti quelli della Banda della Marmotta. Assalto al Bancomat della Biper di Mozzagrogna la notte tra il 30 aprile e il primo di maggio. La Banda della Marmotta colpito ancora nel territorio frentano, saccheggiato più volte. Tre a Castelfrentano, alle Poste e alla Carichieti e nella stessa notte alla Biper di Frisa, una alla ex Caripe di Atessa, una alla Tercas di Santa Marembaro, due volte a San Vito Chietino. Questa volta prendendo di mira lo sportello di Viale Frentano, accanto alla parrocchia di San Rocco. Dai filmati registrati dalle telecamere della videosorveglianza di fronte al municipio, si vede che ad agire sono stati in quattro, con i volti coperti dai caschi da lavoro con torce. Tutto è accaduto in una manciata di minuti, circa quattro. Spostata di qualche metro, l'Audi Station Vagon usata per la fuga. La marmotta è stata fatta scoppiare, mentre due banditi si riparavano di fianco al piccolo edificio che contiene l'Agenzia Bancaria e il Circolo Sociale di Mozzagrogna. Dopo il botto avvertito dai residenti che abitano in centro, i ladri hanno arraffato il bottino e sono scappati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ortona e della stazione di Fossa Cesia che indagano sull'accaduto. L'auto, usata dai banditi, solitamente abbandonata nelle vicinanze del luogo dove è stato fatto il colpo, questa volta non è stata trovata. territorio fragile ed esposto a scorribbande, quello frentano. Spesso i malviventi provengono da sud, specialmente dalla provincia di Foggia. Numerosi gli episodi di intercettazione in seguimento ad opera della Polizia Stradale di Vasto Sud sull'A14, ma evidentemente non bastano affermare le incursioni dei ladri.